40. Solo un aspetto. Che cosa facciamo nelle nostre vite? Commento. Raggiungiamo un punto di equilibrio per abbandonarlo e raggiungere un punto di equilibrio più elevato. Ringraziamo la legge che ci fa comprendere progressivamente che solo lei è la nostra vera natura, che la nostra personalità è illusoria, che la nostra materialità è illusoria e che il dolore è solo un aspetto della nostra esistenza.